A D'Agrigento, Luana Landolina, che è esperta di disciplina mentale, Vivian Miliziano, insegnante di Odaka Yoga, hanno promosso degli incontri settimanali di yoga e di coaching tutti i martedì, già da oggi, martedì 6 febbraio, alle ore 18, nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro, in via Pirandello ad Agrigento. Altre informazioni al numero telefonico 0922 29742, oppure sul sito ararisco.com e sulla pagina Facebook di disciplina mentale. Ascoltiamo in proposito le stesse Luana Landolina e Vivian Miliziano. Luana Landolina, esperta di coaching. Di che si tratta? Cos'è il coaching? Il coaching è una disciplina che aiuta a migliorare le prestazioni, i risultati, imparando a gestire i pensieri, i comportamenti e le emozioni. Vivian Miliziano, esperta invece di yoga. Di che si tratta? Lo yoga è una disciplina, un'arte e una scienza che serve per disciplinare ed educare il corpo e migliorare quindi la salute e il benessere psicofisico in generale. Come si svolgeranno le sedute nello spazio Temenos della chiesa di San Pietro? Sì, abbiamo deciso di unire lo yoga e il coaching per offrire delle sessioni e permettere un benessere a 360 gradi, dove ogni martedì facciamo un incontro su un argomento diverso per imparare a gestire appunto le emozioni, lo stress, a conoscersi, a conoscere e dominare la mente e il corpo. A quale pubblico vi rivolgete? Bene, è rivolto a tutti. Le lezioni sono di base e permettono quindi di essere seguite per ogni singolo incontro. Ovviamente seguire tutti gli incontri offre un maggiore vantaggio. È necessario venire semplicemente con un abbigliamento sportivo, rilassarsi e fare spazio a te, quindi spazio a voi. Si tratta di un'iniziativa alquanto insolita, originale soprattutto per il territorio agrigentino. In altre parti della Sicilia, se non nel resto d'Italia, esistono altre iniziative dello stesso genere? No, questo è un corso assolutamente inedito, non esiste ad Agrigento, non esiste in Sicilia, anche perché comunque nella provincia non ci sono finora, che noi sappiamo, altri mental coach certificati né altri insegnanti di Odaka Yoga con la certificazione di Vivian. Tutti martedì alle ore 18, nello spazio Temenos, la chiesa di San Pietro. Da quando esattamente? Già abbiamo effettuato il primo incontro, questo martedì 6 ci sarà il secondo incontro e vi consiglio di venire perché sarà veramente qualcosa di speciale, di straordinario. Da parte vostra pertanto un appello alla partecipazione. Sì, il benessere oggi è qualcosa di molto ricercato, come anche la felicità. Credo proprio che si tratti di una scelta, quindi fate spazio a voi, fai spazio a te. Vi sentirete sicuramente molto meglio e sarete subito più felici. Esatto, spazio a te è proprio il titolo del corso che abbiamo scelto di dare, proprio per permetterti di prendere un momento da dedicare solo a te per il tuo benessere fisico e mentale. Il nostro motto infatti è il benessere è questione di scelta. Cambia modo di muoverti e di pensare. I tuoi pensieri diventano un lettura di una relazione. Forza, energia, volentà sono dentro di te. Niente è impossibile. Credeci è il primo passo. Cosa aspetti? Cosa aspetti? Sacri.